Già da un anno prepariamo la pubblicazione di un nuovo organo che si chiama Annali Recensioni Online. Questo organo è preparato dai ricercatori dell'Istituto Storico Italo-Tedesco, che fa parte della Fondazione Bruno Kessler, e abbiamo deciso di farlo un anno fa perché i mercati dei recensioni, ma anche i mercati per le pubblicazioni per la storiografia sono cambiati tantissimo negli ultimi anni. Il prossimo numero, che esce alla fine di maggio, si occupa nel forum, che è al centro di ogni fascicolo di Aro, della storia europea. In questo forum si parla di tre libri, uno di Pietro Rossi, un collega famosissimo, che ha scritto un libro sul tema di Europa che fu, e questo è recensito da Edoardo Tottorolo, il co-curatore di Aro. È un libro che tratta la storia dell'Europa dagli inizi, dal Medioevo fino ad adesso, in un senso intellettuale, direi io. Un secondo volume che abbiamo scelto è di Bostrat e Pieter Wagner, che hanno lavorato a Firenze, all'Istituto Europeo di Firenze, per un lungo tempo, che si occupano dei dibattiti nel campo della politologia, della sociologia, sulle idee dell'Europa negli ultimi secoli. E un terzo libro che è stato pubblicato da Kieran Patel di Maastricht, è stato recensito da un collega qui dell'Istituto, da Gabriele Dottavio, che si chiama Progetto Europa, il progetto dell'Europa. È un bel libro sui progetti dell'integrazione dell'Europa negli ultimi decenni. Tutte queste recensioni ci aiutano a capire meglio i sviluppi anche dopo le elezioni che si sono svolti qualche giorno fa. E per questo pensiamo anche che questo organo non serve solamente ai ricercatori, ai professori che si occupano della storia, ma anche a quelli che vogliono capire meglio cosa succede in Europa. Grazie